Liberò la razza negra dalla gabbia dello schiavismo, ma quando divenne presidente degli Stati Uniti d'America, la notte cominciò a sognare tre vecchie che giocavano a carte con lui. La prima si chiamava l'emancipazione dei negri, la seconda la guerra di secessione, la terza la morte per assassinio. Nessuna delle tre vecchie alzava la testa un istante, nessuna di loro cambiava di posto una volta. In ginocchio, nel buio, giocavano tutte le notti con lui, erano i tre punti chiave della sua missione politica. Il presidente vinse per prima l'emancipazione dei negri, la guerra di secessione la vinse dopo la resa degli Stati del Sud, ma la morte per assassino gli vinse la vita. Commento. Le esigenze insopprimibili che attraversano l'intera vita di alcuni individui, come battersi per un popolo o per un'idea, sono missioni. Queste riflettono l'esigenza dei codici di quegli individui, che vibrano con una frequenza di molto maggiore rispetto ai codici della media degli incarnati. Tale frequenza si riverbera poi nel piano fisico sotto la forma di esperienze che coinvolgono l'attività vibratoria di milioni di individui. Per questo si diventa condottieri, leader, presidenti, eccetera.